Manoscritti medievali, seconda puntata. Codex Gigas, detto anche la Bibbia del diavolo. Il Codex Gigas è contenuto in una copertina di legno ricoperta di pelle con ornamenti e borchie di metallo. Il perché si chiami Gigas non dovrebbe stupire nessuno se si guarda questa immagine dell'inizio del 1900. È un codice gigante. Quest'altra immagine invece moderna e riguarda una riproduzione in formato 1 a 1 del Gigas. Le sue dimensioni sono infatti 92 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza e 22 cm di spessore, misure che lo rendono il manoscritto più voluminoso di tutto il Medioevo. Un peso anche notevole, 75 kg. Inizialmente conteneva 320 pagine di vellum, ma 8 di queste sono state successivamente rimosse provocando ulteriori sospetti riguardo all'origine. Il vellum è un tipo di pergamena particolarmente fine, si ottiene utilizzando la pelle generalmente di vitelli, ricavata da animali nati morti o da fetti. È anche chiamata pergamena uterina. Visto le piccole dimensioni e l'ovvia scarsità del materiale di base, era oltre che la migliore pergavena sul mercato, anche la più rara e costosa. Il Codes include diversi libri. Innanzitutto la trascrizione completa della Bibbia tratta quasi interamente dalla Vulgata, la Bibbia Vulgata, ad eccezione degli Atti degli Apostoli e dell'Apocalisse di San Giovanni, che sono invece tratti dalla Vetus Latina. Il testo include anche le etimologie di Isidoro di Siviglia, due lavori di natura storica di Giuseppe Flavio, ovvero Antichità Giudaica e la Guerra Giudaica. Giuseppe Flavio era un ebreo convertito al cristianesimo. Una storia della Bohemia, cronica Bohemorum di Cosma Praghese, notissimo storico, vari trattati di storia, etimologia e fisiologia, un calendario con la lista dei santi, l'elenco dei monasteri di Pozlicama, formule magiche e altri documenti, tra cui alfabeti greco, cirillaco e ebraico. L'intero libro è scritto in latino. Il codice è stato creato da un certo Hermann, il recluso, nel monastero benedettino di Podlazice, non so se si pronuncia così, che venne distrutto nel XV secolo. Nel Codex, il 1229, viene registrato come l'anno di completamento dell'opera. Il libro fece poi la sua comparsa nel monastero cistacente di Sedlec e successivamente venne acquistato da quello benedettino di Prevnov. Dal 1477 al 1593 fu costruito nella biblioteca di un monastero di Brumov, fino a quando non venne trasferito a Praga nel 1594, per entrare a far parte della collezione di Rodolfo II d'Asburgo, grande collezionista di volumi e altre amenità esoteriche. Alla fine della guerra dei Frentanni, nel 1648, venne tutta la collezione di Rodolfo II, venne presa dall'esercito svedese e così dal 1649 il manoscritto si trova nella biblioteca reale di Svezia, a Stoccolma. Per queste traversie, in realtà quello che abbiamo definito finora Codex Gigas è ben più conosciuto con un altro nome, Bibbia del diavolo. e tutto ciò per una mostruosa illustrazione del demonio a quasi tutta pagina, la 577. Foglio 290 recto. Inoltre alcune altre pagine prima di questa immagine sono scritte su fogli di pergamena stranamente anneriti ed alcuni strappati che danno loro un aspetto inquietante e differente dal resto del codice stesso. All'immagine del diavolo e al Codex Gigas in genere è legata una leggenda. Si dice che l'autore, Ermano il recluso, fosse un monaco che era stato condannato solo ad essere murato vivo per i suoi peccati. La sua unica salvezza sarebbe stata quella di scrivere l'intero sapere umano in un libro in una sola notte. Il monaco avrebbe scritto il libro stringendo un patto col diavolo. se avesse scritto il libro avrebbe venduto la propria anima lucifero ma avrebbe avuto salva la vita su questa terra. Satana accettò di aiutare il monaco il quale avrebbe avuto la gloria terrena ma la dannazione eterna. vediamo in questa immagine una ricostruzione moderna delle fasi di pittura del grande diavolo è parso a molti assai strano che una figura così slegata del tutto da contesti iconografici tradizionali per esempio l'inferno le tentazioni di Gesù nel deserto in cui compaiono in effetti dei diavoli sia stata invece rappresentata tutta pagina senza sfondo facendo quindi quello che certi giudicano un atto blasfemo se non altro perché è slegato dalle consuetudini consolidate. Eccolo qua il nostro diavolo inoltre un mistero forse ancora più grande consiste nell'aspetto del manoscritto che resta fondamentalmente invariato dall'inizio alla fine così come la calligrafia dello scrivano che non mostra i segni del trascorrere degli anni di malattia o di cambiamenti di umore. In parole povere molti studiosi sono stati costretti a ritenere che tutta l'opera proviene dalla mano di una sola persona. Tuttavia a una persona per scrivere a mano l'intero codice sarebbero stati necessari vent'anni di impegno incessante. se così è stato questo scrivano deve aver goduto di perfetta salute e di polso fermo per un lunghissimo periodo. È stato questo strano fatto ad alimentare la credenza che il manoscritto sia stato esteso magicamente in un periodo di tempo incredibilmente breve. Il manoscritto include miniature in rosso blu giallo verde e oro. Le maiuscole iniziali sono minuziosamente miniante e frequentemente occupano l'intera pagina. Il codex ROCONC Il codice ROCONC pronuncia ungherese forse ROCONC è un libro manoscritto illustrato di un attore sconosciuto con un testo in una lingua sconosciuta e un sistema di scrittura sconosciuto. L'origine del libro è significato dal testo e dell'illustrazione sono stati studiati da molti studiosi e anche da dilettanti senza alcuna conclusione definitiva. Il codice prende il nome dalla città di ROCONC nell'Ungheria occidentale ora invece si chiama Rechnitz in Austria dove fu conservato fino al 1838. quando fu donato all'Accademia delle Scienze ungherese da un conte ungherese insieme alla sua intera biblioteca. Il codice ha 448 pagine di carta 12 per 10 centimetri non molto grande ognuna tra 9 14 file di simboli che possono essere o possono non essere lettere. Oltre al testo ci sono 87 illustrazioni che includono scene religiose e laiche e perfino militari. Le illustrazioni sono piuttosto rosse, sembrano indicare un ambiente in cui convivono religioni cristiane, pagane e musulmane, in quanto i simboli della croce, della mezzaluna e del sole e della svastica sono tutti presenti. Il numero di simboli utilizzati nel codice è circa 10 volte superiore a qualsiasi alfabeto conosciuto. Ne hanno contati 792, ma la maggior parte dei simboli viene usata raramente, quindi i simboli nel codice potrebbero essere un alfabeto o non essere un alfabeto ma un sillabario o anche logografi come i caratteri cinesi. La giustificazione del margine destro sembrerebbe implicare che i simboli sono stati scritti da destra a sinistra, quindi al contrario di come siamo abituati. Lo studio della carta su cui è scritto il codice mostra che molto probabilmente è una carta veneziana realizzata negli anni 30 del Settecento. Ciò non fornisce certezza sulla data del testo tuttavia, nel momento che potrebbe essere trascritto da una fonte precedente o la carta avrebbe potuto essere utilizzata molto tempo dopo la sua produzione. Per quanto riguarda la lingua del codice, anche se sono stati proposti ungherese, dacico, antico, romeno, o cumano, persino, indi, nessuna delle ipotesi è stata sostenuta, almeno finora, con prove scientifiche. Nel 2010 tale Gabor Tokai ha dimostrato in modo abbastanza convincente che il testo ha regolarità che suggeriscono fortemente un significato, anche se non si può negare la possibilità che si tratti di una complessa burla. La tendenza più recente è quindi in direzione di una lingua artificiale. Adesso un'altra pagina e un'altra ancora del codice stesso. E ora è il tempo di affrontare il Catrix. Prepariamoci. Il libro conosciuto in Occidente come Picatrix aveva come titolo originale scusate la pronuncia Gaiat al-Akim cioè il fine del saggio e sarebbe stato scritto in arabo da tale anche qua la pronuncia è dubbia Abu Maslam Abu Ahmad Ibrahim Ibn Abd al-Daim al-Mairiti oriundo di Cordova morto nel 1700-18 d.C. Gli storici più recenti tendono però ad anticipare la sua prima scrittura di quasi un secolo quindi sarebbe degli inizi del novecento dopo Cristo fu tradotto de arabicum in hispanicum nel 1256 sotto il regno di Alfonso X di Castiglia detto El Sabio il saggio del resto Alfonso X aveva una vera mania per per tutti i tipi di codici e stranezze si interessò molto anche di scacchi tra l'altro venne in seguito tradotto dallo spagnolo in latino avendo un'ampissima diffusione come manoscritto da una delle edizioni latine del filosofo breo Giovanni Picatrix da cui l'attuale nome fu tradotto in volgare dal veneziano Gian Battista Anesio che nel 1630 era cappellano delle monache di San Martino di Murano si tratta in buona sostanza dell'esposizione più completa della magia celeste in arabo è una raccolta di nozioni prelevate da oltre 200 differenti testi di magia e astrologia il suo scopo è in effetti insegnare al lettore come ottenere energia dai pianeti del cosmo cioè attrarre e canalizzare l'energia dei pianeti in modo che un determinato evento si sviluppi secondo le volontà del praticante la magia zodiacale si dice possa aiutare ad essere maestro dominatore con la precisione attraverso la forza della natura dell'universo e dell'ambiente circostante l'antico grimorio magico ha anche uno spaccato della numerologia oltre ad offrire un calendario delle fasi lunari che presumibilmente avrebbe aiutato attraverso rituali ad avere un momento più propizio in modo che l'energia dell'universo favorisca il risultato include diverse ricette bizzarre per innumerevoli incantesimi che dovevano essere composti utilizzando ingredienti pericolosi come l'hashish l'oppio e altre piante psicoattive utilizzate da sempre in grandi quantità per indurre stati alterati di coscienza e viaggi astrali l'intenzione è quella di contattare i spiriti di altre dimensioni e padroneggiarne le forze gli ingredienti da utilizzare erano diversi sangue sperma urina cerume e lacrime e la saliva tutti mescolati insieme per ottenere i migliori risultati e giungere a dominare il mondo è interessante notare che Picatrix spiega non solo come creare statue magiche del tipo del golem per intenderci e anche talismani ma parla di intere città costruite utilizzando i principi della magia astrologica Picatrix è diviso in quattro libri distinti nel primo libro viene descritto a grandi linee il firmamento e l'effetto generale che ha sulla sfera soprannaturale fornendo descrizioni di cosa sia realmente la magia e del suo impatto sulla vita reale il secondo libro si concentra sull'effetto dettagliato delle dinamiche celesti sul mondo materiale di come i pianeti la luna le stelle possono essere usati per attività magico divinatorie con accenni al mondo induista e delle sue influenze sul contenuto dell'opera nel terzo libro ci scende ulteriormente nel dettaglio dei pianeti e delle loro sfere di influenza di come possano interagire con animali piante e minerali per ottenere effetti benefici o al contrario causare sofferenza e distruzione il quarto libro è incentrato sull'evocazione di creature soprannaturali riega come evocare spiriti e demoni usando diverse pratiche rituali allo scopo di ottenere conoscenza o di piegarli al proprio volere qua vediamo alcune rappresentazioni ad esempio questa qua è una rappresentazione dell'alima e il Picatrix ebbe un'enorme diffusione durante tutto il Rinascimento una coppia del Picatrix era presente nella biblioteca del mago Cornelio Agrippa ma anche del dotto picco della Mirandola così come del Pio Marsilio Ficino andiamo al manoscritto Vojnic il manoscritto del quale non esistono coppie è attualmente conservato presso la Bayvik Rar Book Manuscript Library dell'Università di Yale negli Stati Uniti proviene però dal collegio Gesuita di Villa Mondragone nei pressi di Frascati e ha preso il nome di Birch Vojnic un mercante di libri rare di origine polacche naturalizzato inglese che lo acquistò nel 1912 costa in 232 pagine di cui 28 sono state sbarrite invito ora a tentare di leggere almeno una riga dell'ingrandimento di una pagina come vedete la scrittura è abbastanza chiara forse ve la cavate meglio così ingrandendo ancora un po' escurendo la scritta ma questa scrittura che sembra chiarissima poi a livello di significato non sembra esattamente dire nulla tenete conto che le pagine tutte scritte sono solo 26 su 204 che ci sono arrivate le altre riportano disegni quantomeno curiosi abbiamo questa ad esempio la parte superiore queste tre donnine collegate da queste tubazioni in fianco altre due a destra una con questa tubazione serpentina la prima parte contiene 103 disegni di pianti sconosciute o difficilmente identificabili e potete notarle non so se qualcuno esperto in botanica può tentare di darne un'interpretazione sì le discalie ci sarebbero però non si riescono a leggere questo ad esempio mi sembra francamente difficile ritrovarla in natura questa forse può richiamare di più invece esperienze visive fatte ma fino a certo punto anche questo vediamo un po' fiore che spunta fuori dalle righe nella seconda sezione 25 diagrammi che sembrano richiamare delle stelle e si riconoscono anche alcuni segni zodiacali un altro diagramma e un altro quasi questi sono evidentemente il simbolo zodiacale dei pesci ma queste donnine in mastelli che lo circondano non hanno molto a che vedere con dei segni zodiacali per la verità anche questi personaggi o queste sorte di corone la terza sezione femmine nude dovente immerse fino al ginocchio in strane vasche intercomunicanti contenenti un liquido talora azzurro talora verdastro azzurro azzurro come azzurro 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 solare azzurro azzurro Un foglio ripiegato sei volte con nove medaglioni con immagini di stelle o figure vagamente simili a cellule, raggere di petali e fasci di tubi. Poi c'è una quarta sezione, ampolle farmacologiche, disegni di piccole piante e radici, forse erbe medicinali. Sente, vero? Sente, vero? All'interno del libro c'era una lettera datata a Praga, 19 agosto 1665, di Johannes Marcus Marci, rettore dell'Università di Praga e medico reale di Rodolfo II di Bohemia. Lo vediamo qua rappresentato in questa immagine, di accompagnamento del libro a Roma presso l'amico poligrafo Atanasius Kircher, perché lo decifrasse. Kircher l'ha conosciuto come, in qualche modo, uno specialista dell'occulto. Marci affermava di aver evitato il manoscritto medievale da un suo amico, un alchimista di nome Georg Baresch, e che il suo precedente proprietario, l'imperatore Rodolfo II, lo aveva acquistato per 600 ducati, cifra molto elevata, credendo l'opera di Ruggero Bacone. Roger Francis Bacon, questo Bacone, fu il più famoso scienziato, medico alchimista, astronomo, visse in un periodo contemporaneo al famoso Federico II, e forse fu in contatto con la Corte Svepa tramite Michele Scotto, scienziato, medico e astronomo, al servizio di Federico II. Il resto c'è un'opera, De Ritardazione Accidentium Senectutis, tradizionalmente attribuita a Bacone, dedicata proprio a Federico II. Poi non sappiamo se sia vero, vediamo come queste figure del libro possono in qualche modo richiamare in effetti la famosa pianta di Castel del Monte. Provincia di Agen, Puglia, molto amato dagli esoteristi, del cui scopo si sono inventate le spiegazioni più balsane. Vediamo che questa è un'altra figura del libro, questa è una figura, la rappresentazione di Federico con uno scetro che può ricordare quello maneggiato da questa figura qua. vediamo ancora la pianta di Castel del Monte confrontata con queste strane rappresentazioni del manoscritto Voinich. Le analisi al microscopio hanno rilevato che non ci sono graffi o ripensamenti nella scrittura come se fosse stato copiato il manoscritto, quindi potrebbe essere una copia di un lavoro originario di Bacone o di un suo contemporaneo secondo alcuni. Il nome di Rodolfo II, la supposizione non del tutto peregrina che il manoscritto fosse redato in una lingua inventata, ha fatto formulare in passato l'ipotesi che l'opera fosse frutto di un complicato raggiro da parte di Edward Kelly, famoso alchimista e medium vissuto nella seconda metà del Cinquecento. E' famosissimo imbroglione, si sa per certo che lui con la complicità o l'aiuto creduro del filosofo John Dee, che vediamo qua rappresentato, organizzò vere e proprie truffe, prendendo di mira tra l'altro anche l'imperatore Rodolfo II, pare con un certo successo. Lì era anche Glottoteta, aveva inventato una lingua detta Angelica o Enochiana, da Enoch, un profeta della Bibbia che pare non sia mai morto, con cui asseriva che gli angeli comunicassero con lui. A confutare questa teoria del clomplotto della beffa è però sopravvenuta l'adaptazione ottenuta mediante la tecnica del carbonio 14 nel febbraio del 2011 da parte di un gruppo di ricerca presso l'Arizona University, per cui le pergamena parebbero risalire ad un periodo compreso tra il 1404 e il 1438, un secolo prima di questi fatti. Insomma, e ora finiamo questa conferenza con un altro libro, i Cantici di Rothfield, 1280-1310, di Areafiandre, Renanio Belgio, ora a New Haven, sempre a Regalda University, USA, i Cantici di Rothfield, un manoscritto medievale, attualmente rilegato in due volumetti, ma era uno solo, quasi dei tascabili, risalenti a seconda ai giudizi, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Qua ne vediamo una riproduzione moderna, ovviamente, il nome deriva dal collezionista di questo, come tanti altri manoscritti, la famiglia Rothfield. Il nome Cantici deriva invece dal fatto che il primo volume è in gran parte un'edizione del celeberrimo cantico dei Cantici, certamente la parte più poetica di tutta la Bibbia. Nel secondo predomine invece il De Trinitate di Sant'Agostino, oltre che citazioni le mie frasi, forse spuglie, di San Bernardo, di Cliveau, di Chiaravalle. Si tratta di un'opera davvero unica perché ne esiste una sola coppia, riccamente miniata certamente, ma soprattutto anche per un'altra ragione. I Cantici non hanno infatti, come gli altri manoscritti religiosi del tempo, come scopo principale quello di raccogliere lo rilegio di citazioni dei libri cristiani per una lettura collettiva ad alta voce, ma questo libretto è dedicato invece a una sola persona. È volto per il suo uso privatissimo, esclusivo. Si tratta quasi sicuramente, come la grande maggioranza di studiosi afferma, di una monaca o di una badessa di un ordine di trausura. È sicuro che è di nobilissimi origini, la spesa di redazione di questo codice deve essere stata ingente, però questo è un libro tutto al femminile. Non mi stupirebbe che sia stato illustrato anche da donne, perché ho imparato nei miei studi, che vi erano anche molte miniatrici. È un'opera con complessi significati simbolici, di elevato misticismo. Il suo scopo è evidentemente quello di collaborare a creare un clima di ascesi spirituale in una persona contemplativa. Proprio per questo molte delle figure hanno evidenti significati nascosti, in cui a ben vedere è rintracciabile il tentativo di dare al genere femminile pur con i limiti del tempo in cui è stato redatto un forte ruolo nella religione cristiana. La scelta dei temi, in epoche più tardi, come ad esempio quella dell'inquisizione spagnola, sarebbe stata assai sospetta, eretica diciamo. Questa figura di regina dei cieli in un lare, ma con un sole a razza che sboccia dal ventre, ne è uno dei molti esempi. Ricorda questa razza di Giambaleazzo di sconti, ma ha una figura femminile o quasi femminile. Il centro non è da meno questa allegoria della Trinità che si fa però in quattro. Come si può ben vedere, il volto di Dio è retto a destra da una figura maschile barbuta, Cristo, e a sinistra da una figura femminile, la Madonna, mentre dall'alto piomba allo Spirito Santo. Qui la Vergine prende un ruolo quindi centrale, non comprimario, del nella Trinità appunto. Più sotto due figure, una maschile a sinistra e una femminile a destra, indicano il simbolo mandalico trinitario. spettanto strana e nello stesso Spirito è quest'altra figura trinitaria. La stessa scelta del Cantico dei Cantici, come testo preferito, allude senza ombra di dubbia al rapporto privilegiato al matrimonio mistico tra il Gesù solare e la Vergine lunale, preziosamente raffigurato e efficacemente in questa bella miniatura. In quest'altra miniatura è riservata alle donne anche lascesi ai cieli di Gesù come sole di giustizia, mentre nella parte sotto Gesù è nel ruolo di consolatore che deterge le lacrime delle amme femminili del Paradiso. Significativa è questa descrizione in due tempi della leggenda della dama e dell'unicorno, che ha uno svolgimento un po' differente da quello delle altre rappresentazioni tipiche del periodo dell'amor cortese. Nel primo tempio vediamo infatti una Vergine che si è spogliata nuda per attrarre, danzando, compose un po' la scive, il terribile unicorno, animale invincibile che può accedere solo alle seduzioni femminili, qui spinte fino a un evidente richiamo erotico. Lascio a voi di sciogliere il difficilissimo enigma di quale sia il significato del torno, orgogliosamente retto sopra la testa dell'unicorno stesso. Nel secondo tempo l'unicorno, come da tradizione, si attormenta sul seno, o più propriamente con la testa posata sul grembo della Vergine, che non sappiamo più se sia ancora Vergine a questo punto. Questa è l'unica occasione possibile per ucciderlo. Come si affretta a fare con una lancia, una figura forse volutamente androgina, uomo o donna, non si sa. Quello della dama e dell'unicorno è un mito che ha tre aspetti. Da una parte può essere inteso come il sacrificio di Cristo. Dall'altra è la lamentazione del cavaliere verso la dama che ha conquistato il suo cuore e finirà per causare la sua morte per amore. E infine è la vendetta della dama che attira con le sue manie l'uomo terribile prepotente che resta indifeso e potrà essere fatto fuori. Altri immagini del libro sono di più complessa interpretazione ancora e prevedono da una parte la conoscenza del testo, in questo caso del Cantico dei Cantici, e dall'altra degli sforzi di interpretazione in base alle sacre scritture. Prendiamo ad esempio questa miniatura tutta pagina a destra. Vediamo una donna coricata dal cui corpo spuntano sorprendentemente dei rami. Non si capisce bene se le tre donne che la circondano stiano cogliendo oppure piantando i rami. Scopriamo però che questa seconda ipotesi è quella giusta, stanno piantandoli. Infatti la prima riga del testo a fronte cita il Cantico dei Cantici 2.5 Tutto ok, ma i rami non sono di fiori, non sono fioriti né di meno, sono di vite invece. Perché? Vengono in mente le parole di Cristo in Giovanni. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui produce molti frutti. Andiamo ora all'immagine sotto. C'è Gesù in una cantina con a fianco una botte di vino. Gesù regge la coppa del vino eucaristico spillato dalla botte. Questo è il mio sangue, sta probabilmente dicendo. La donna entra nella cantina accanto a Gesù sorridendo. Il senso è questo. Cristo ha donato il suo sangue all'umanità, ma a renderlo possibile è stato una donna. È la donna che ha dato la vita, cioè la vita, perché questo vino, questo sangue potesse essere spillato. Questa altra miniatura piena pagina riproduce tre passi del Cantico dei Cantici, che adesso enuncio in seguito, però in realtà nelle figure si parte dal centro. Al centro io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, sotto, per le gallette, per le gazzelle o per le cervo dei campi. Sopra, non destate, non scuotete dal sonno l'amore, finché non lo desideri. Questa doppia pagina nel registro superiore mostra la sposa dei cantici e Cristo che si incontrano e si abbracciano in un giardino. E' la sposa che apre la strada, afferrando il polso di Cristo, segnalando così la sua sottomissione. Una volta nel giardino, si incontrano in un abbraccio intimo, faccia a faccia. Il registro inferiore raffigura la sposa con una lancia che collega visivamente le due pagine. La sua diagonale ci conduce direttamente al costato, al fianco di Cristo, un bersaglio indicato dal gesto della mano destra di Cristo o il dito sporgente che ricorda quello del dubbio di Sant'Ommaso. C'è chi suggerisce che qui in realtà lo sguardo, è lo sguardo della donna che ferisce Cristo. La lancia indica il suo amore, ovviamente, ma simbolizza anche lo sguardo penetrante e desiderante. In effetti, la sposa qua a sinistra ritira il suo copricapo per vedere meglio il bersaglio. Il gesto della sua mano sugli occhi rafforza la connessione tra l'atto del vedere e la penetrazione della lancia. La sua visione è quindi altrettanto attiva o penetrante nella stessa lancia. Quest'immagine rappresenterebbe perciò una drastica inversione del luogo comune della donna come oggetto del desiderio del maschio. Il penetrante diventa il penetrato. Quindi il maschio, colui che ferisce, diventa il ferito. Eccoci qua, un'immagine con una simbologia complessissima. Se vi sono sembrate complicate quelle precedenti, preparatevi a tentare di comprendere questa, che è davvero intricatissima, neanche il migliore degli esperti in simboli medievali, sarebbe stato in grado di dare a quest'immagine un significato se non avessimo avuto la fortuna di avere una guida sicura. Si tratta del sermone della palma, Comptemplazionis, compreso nei sermoni di Limburg, un manoscritto conservato ad Aia. Il sermone prende lo spunto da un passo del Cantico dei Cantici. Ho detto, salirò sulla palma, coglierò i grappoli di datteri. L'albero si conferma dunque nel suo ruolo di strada ascensionale su una scala che porta dal tempo all'eternità. Qui la palma, trasformata ancora una volta in vite, in quanto è l'albero della vita del paradiso terrestre, ha sette rami, a cui l'oratore del sermone fa corrispondere sette diversi fiori e sette uccelli simbolici. La croce in forma di albero rimanda alla contrapposizione tra Cristo ed Adamo. Il primo uomo segnò la caduta, cogliendo il frutto dell'albero proibito, mentre il crocifisso rappresenta l'albero della vita che dona la salvezza. Nella miniatura i fiori sono stati tralasciati, ma gli uccelli corrispondono sia nella specie che nell'ordine proposto. Il primo ramo della palma rappresenta il riconoscimento della mortalità. L'uovo deve ricordare che ben presto tornerà da dove è venuto, finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. L'uccello in questo ramo è il pavone. Il sermone spiega così la corrispondenza in modo molto medievale, per noi incomprensibile perché gli animali rappresentano dei simboli. Nella natura del pavone che a mezzanotte, mentre dorme, gridi miseramente e si svegli da solo, ma quindi a controllare se ancora lo specchio sopra la testa, in realtà è la rappresentazione simbolica di questo ciuffo sulla testa del pavone, se lo vede torna a dormire senza preoccuparsi. Come un benedetto deve avere la stessa natura del pavone, se a mezzanotte si risveglia, egli deve controllare se la sua virtù è diretta a Dio con amore bruciante o se non si sia raffreddata o persa completamente e se trova lo splendido specchio della virtù nella testa della sua anima, può dormire serenamente. Il ramo successivo è la compassione e l'animale corrispondente è l'upupa e il suo costume di volare sopra le tombe e piangere per i defunti. evidentemente il miniaturista non conosceva l'upupa e l'ha sostituita con una sorta di civetta, altro uccello tradizionalmente collegato alla morte. Il terzo ramo è la penitenza, il predicatore afferma che il cigno conosce in largo anticipo il momento della propria morte, perciò passa il suo ultimo giorno di vita a cantare il famoso canto del cigno. L'uomo con l'arpa ricorda così il poeta Davide che compose i salmi. Come il cigno, l'uomo dovrebbe ricordare la propria morte inevitabile ed innalzare perciò un canto di lode al Signore. Il quarto è il ramo dei dolci pensieri, il dolore per la passione del Cristo ed il sollievo che il credente prova a contemplare la misericordia divina. Qui dovete impegnarvi, per strano che possa sembrarvi, l'uccello di questo ramo è un'arpia che qui è rappresentata quasi sempre un leone alato con la faccia umana e non un uccello. Anche in questo caso la realizzazione del disegno quindi differisce dal testo. Secondo il serbone, e non appena nasce il suo nido, l'arpia uccide la prima persona che incontra. Quindi vola ad uno specchio d'acqua e lì vede la sua immagine riflessa. Capisce allora di avere le stesse sembianze della sua preda e perde ogni allegria perché sa di aver ucciso un proprio fratello. Così l'uomo benedetto comprende di aver ucciso Gesù Cristo che era il suo fratello sia nella natura umana che in quella divina perciò abbandona ogni gioia derivante da tutto ciò che è transitorio e volge i suoi pensieri all'eternità. L'uccello successivo è l'usignolo il cui gioioso canto corrisponde al ramo del desiderio che l'uomo deve provare verso Dio. Infine la rondine sul sesto ramo rappresenta la preghiera come l'uccello si ciba mentre vola così l'anima del religioso si sfama nel volo del desiderio con cui l'anima giunge al cielo e infine l'ultimo ramo è il vertice della palma e rappresenta la dolcezza perfetta che il Signore dona all'anima così pura che il corpo riesce a sopportare la fatica. L'uccello corrispondente è la fenice così la si escribe La fenice abita sul monte degli olivi l'uccello è anche sempre unico ce n'è uno solo al mondo se desidera riprodursi egli raccoglie le più nobili erbe riesce a trovare e si costruisce una casa vola quindi nel cielo fino ad arrivare così vicino al sole da scottarsi poi torna giù alla sua casa e batte le sue ali così forte da prendere fuoco bruciando il suo corpo e la propria casa dalle sue ceneri cresce una nuova fenice e in questo mondo l'uccello si riproduce. Il monte degli olivi rappresenta la vita religiosa erbe significano le virtù che crescono nell'uomo religioso l'uomo religioso ravviva la sua fede avvicinandosi a Dio fino ad incendiare la propria anima con l'amore divino la casa della fenice è allora il suo cuore che divampa al suo ritorno. Fine della conferenza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.